Buongiorno e benvenuti a Occhio ai giornali di venerdì 24 settembre. Questa è Fano TV, siamo sul canale 17, sul digitale terrestre, visibile in tutta la regione Marche. Partiamo dal santo del giorno, oggi ne ricordiamo due, intanto la Beata Vergine Maria della Mercede e poi ricordiamo anche un altro santo tra i vari, che ci sono nel martiriologio, San Pacifico da San Severino Marche. Il sole è sorto alle 6.57 e tramonterà alle 19.03. Adesso diamo uno sguardo al tempo. Il titolo da trebimeteo.com, domenica si cambia, torna il maltempo a partire dal nord con piogge temporali, quasi estate però fino a sabato con l'anticiclone africano. Andiamo a vedere il sito della protezione civile delle Marche. Per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento nei valori massimi. Poi per domani, sabato 25, ancora cielo sereno poco nuvoloso, per domenica il peggioramento in montagna. Vedete con precipitazioni dal tardo pomeriggio, deboli piovaschi sparsi nelle zone montane, specialmente nei versanti occidentali. Il tempo sarà instabile anche per la giornata di lunedì, poi ci sarà e seguirà un miglioramento. Andiamo adesso invece a vedere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico Edizione Pesarese. Il tema dei rifiuti in primo piano, piano senza impianti, il Lata rinuncia alla TMB e non pianifica il biodigestore, affidandosi alle decisioni della provincia sui progetti privati. Le discariche gestite da Marche Multiservizi chiuse con i rifiuti industriali resterà solamente Monteschiantello. A centro pagina invece la fotonotizia, con l'immagine di questi studenti universitari a Palazzo Gradari, dove è iniziato il corso di ingegneria, green pass e mascherina, questa è l'università. Poi il prof donati che dice pochi tamponi e le cure a casa riempiono le rianimazioni. Covid, un affare nel mirino della DIA, il caso sanificazione. Sempre da Pesaro, maxi schermi per il santo patrono senza processione. Punto dai Calabroni, suocero del sindaco, il sindaco di Mercatello. Soccorsi arrivati in ritardo. Cinque vittime invece della strada via Roma a Fano è la più pericolosa. Il 2021 un anno in fausto per la sicurezza, l'assessorato alla mobilità incaricato dei correttivi. Droga, presi insospettabile e una vecchia conoscenza. Andiamo sul Carlino di Pesaro. La fotonotizia è per la squadra di Basket Cittadina. Fiducia WL, ci riprenderemo. Presentata la squadra a Villa Matarazzo, sul play e in arrivo Tyler Larson. Mentre Risico Hotel, Bosco compra il Lido. Nuova acquisizione immobiliare per il presidente della VIS. Slitta l'asta per il Deben e il 18, quella per il Cruis. Mentre due pesaresi, protagonisti per caso al Parlamento europeo. E poi a Gabice, caos in centro e calce al vigile urbano. Sotto invece opera introvabili, il tema del lavoro. Mancano le competenze, dice il direttore del centro per l'impiego. Mentre sempre sul fronte lavorativo. Cerco un avvocato per il mio studio, ma nessuno risponde. La cronaca, ancora ladri in casa, allarme furti, tre colpi in poche ore. E ancora, dalla prima del Carlino di Pesero, gli amici inseparabili. Valentino e Leonardo, insieme per sempre, morti a due ore di distanza l'uno dall'altro. Dove va la sanità? Invece Marche Nord, più ospedali nell'azienda. La regione verso l'allargamento che coinvolgerebbe anche Pergola e Urbino. Operai introvabili, a pagina 4 del Carlino di Pesero. Abbiamo selezionato alcune pagine per la rassegna di questa mattina. Allora, vediamole subito. Il sussidio non c'entra, i soldi e lo stipendio c'entra poco. Il problema è la carenza di competenze. Claudio Andreani, responsabile storico del centro per l'impiego di Pesero, entra nel dibattito aperto da Walter Scavolini. Chi percepisce il reddito di cittadinanza, dice Andreani, a volte è davvero impossibilitato a scegliere altre attività. Decisiva, chiaramente, è la formazione. Non c'è il personale, la guardia medica, verso l'accorpamento. Siamo a pagina 11 del Corriere Adriatico. La dirigente del distretto propone ad ottobre la sospensione della postazione di Gabice Gradara, la copertura con i presidi di Pesero e Montecchio, ma a novembre il problema si può aggravare. Intanto c'è il disagio che viene lamentato con quei turni estenuanti con nove notti al mese. La pagina di Fano, invece, del Corriere Adriatico. In apertura, anno in fausto. Cinque morti sulle strade, via Roma la più pericolosa a Fano. Il bilancio della Polizia Locale, sinergia con l'ufficio Mobilità per migliorare la sicurezza. E poi sotto, a proposito di incidenti, tre incidenti, cicliste investito da un'auto, gli altri due hanno coinvolto altrettanti motociclisti feriti trattati a Fano e Pesero. Ma sempre sulla questione dell'anno in fausto, con questi cinque morti sulle strade in via Roma, la comandante della Polizia Locale a Narita Montagna assicura che gli undici vigili urbani assunti lavoreranno tutti all'esterno. e questo direi che è assolutamente molto importante, un segnale importantissimo. Si rompe la condotta, quasi due ore, senza acqua, pronta riparazione però della squadra di Aset. È successo l'altro ieri sera tra le 19.40 e le 21.20 nella zona sud del fiume Metauro, praticamente in strada comunale di Ponte Alto, a Metauriglia di Fano. Green Pass ai tavoli. Cresce la preoccupazione, siamo sul Carlino di Fano. Ristoratori in allarme, il problema è la sostituzione del personale non vaccinato, che però non si può licenziare, e c'è chi lamenta anche un calo di clienti. Ogni sera, dice qualche ristoratore, a causa della certificazione perdo una decina di ospiti. Marche dalla vigna alla tavola, sono 300 le cantine coinvolte, volte oltre 300 eventi in diversi locali per un totale di 21 progetti. E poi invece la cronaca sul Corriere di Fano, arrestato insospettabile con sei etti di marijuana. I carabinieri sorprendono anche una vecchia conoscenza con la coca. E poi ricattava il consuocero, pena di sei anni di carcere, intimidazioni e minacce, e così ha spillato 8 mila euro in appena 10 giorni. Sempre da Fano, Seri incontra Salta Martini, il sindaco di Fano incontra l'assessore dunque regionale alla sanità, pressing per l'ospedale di Fano, per il Santa Croce, Fratelli d'Italia in calza, con una lettera aperta, il sindaco sui contatti presi e le richieste che presenterà. Poi c'è una provocazione, che è quella di Dino Zacchilli, nuovo ospedale da costruire a Chiaruccia. Per l'ex assessore la giunta regionale, per passare dalle parole ai fatti, avrebbe una sola cosa da fare, ovvero costruire anche a Fano un nuovo ospedale a Chiaruccia, comprensivo anche dei posti letto che si volevano dare al privato. Ancora dai giornali, la pagina di Fano, pagina 23 del Carlino, un libro che riscopre la storia del prete musicista. Parliamo di Nicolò Fontei, raccontato grazie al lavoro di padre Silvano e della musicologa Maria Grazia Mazzi. Ritratto dunque di questo artrista, approfondite ricerche di archivio per risalire a una grande orcianese. Il volume sarà presentato domani dai coautori dalle 16.30 alla Pinacoteca di San Domenico. Poi un'altra notizia che troverete sulla pagina del Carlino di Fano. dal 28 settembre riapre lo sportello immigrazione al commissariato di Fano. Ecco le modalità per presentarsi e richiedere servizi. San Costanzo, commosso addio agli amici speciali, in tanti hanno partecipato al funerale di Valentino Ricci e Leandro Santini di 99 e 98 anni, che si sono spenti praticamente lo stesso giorno a distanza, come abbiamo visto, di due ore l'uno dall'altro. un paese, il paese di San Costanzo, in lutto. Da Pesaro, invece, il Corriere Adriatico. Famiglia in casa, ladri via con loro. Tre colpi ravvicinati in abitazione all'ora di cena, bottini rispettivamente da 5.870 euro, nel Mirino, via Gandhi e via Lubiana. In entrambi i casi si sono arrampicati fino al primo piano. In via Schiavini hanno invece sfondato il portone e agito indisturbati senza i proprietari. Poi, sempre dalla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, apprendiamo della visita di Ucchielli al Prefetto, Ucchielli che ha chiesto più forze di polizia, e poi il ricordo e quindi la sala parrocchiale dedicata a Valentino Fori, ideatore del presepe meccanico. ad un anno dalla sua scomparsa. I ladri in camera, invece, titola così il resto del Carlino a pagina 7, i proprietari nel soggiorno, due colpi in via Gandhi e via Lubiana, mentre i residenti si trovavano a pochi metri, altro episodio in centro, ma come abbiamo visto i bottini sono piuttosto scarni, piuttosto magri. Poi c'è un'altra notizia di cronaca che si trova sulla pagina del Carlino di oggi, è storce i soldi ad un cuoco, condannato a 6 anni e 8 mesi, il caso di un 45enne che si era stabilito a casa del consuocero, l'uomo è riuscito a farsi dare 8.100 euro facendo leva sulle minacce e sulla paura di colui che ospitava. Le altre notizie, andiamo a pagina 11 del Carlino di Ancona mille sms in un giorno lascia stare mio marito, l'imprenditrice si era convinta che quella donna voleva soffiarle il marito, così per 8 mesi l'ha tempestata praticamente di messaggi minacciosi che erano rivolti anche ai figli, so tutto di te, per esempio, scriveva in uno di questi sms, so tutto di te non rompere più a mio marito che vengo dove lavori e ti faccio a pezzi. Insomma, l'imputata alla fine ha patteggiato. Mentre dalla pagina di Urbino, anche se la notizia arriva da Mercatello sul Metauro, il titolo viene assalito dai calabroni e rischia lo sciocco, lo sciocco anafilattico, suocero della sindaca salvato da un passante, l'uomo di 73 anni si è sentito male alla guinza, la prima ambulanza disponibile da Sasso Corvaro, 33 minuti dopo. L'anziano, aiutato da una donna che faceva trekking, ha prestato il primo soccorso e poi il primo soccorso è arrivato anche dal medico di famiglia, quindi la donna evidentemente che faceva corse, insomma, che correva, era lì per fare un po' di sport, ha visto tutto e ha chiamato i soccorsi. Andiamo invece sull'altra pagina del Carlino, da Senigallia un anziano tocca una sedicenne in ascensore e adesso è finito nei guai. L'imprenditore del turismo, 85 anni, rischia una condanna per violenza sessuale in quell'hotel ha approfittato della ragazzina. Poi, sempre per la cronaca, qui di spalla, la polizia che ha trovato armi ad un 35enne è portato dunque in carcere, piscina delle saline ancora stallo, gli atleti non possono gareggiare, slitta la riapertura del polo e scoppia la protesta, la voce di Romano del PD, situazione paradossale. E l'ultima pagina della nostra seglia stampa, sempre da Senigallia, Corriere Adriatico, ora c'è il documento della regione, semaforo verde alle auto sul ponte, arriva il verbale, giovedì 30 settembre, il traffico veicolare verrà ripristinato dopo quasi un lustro. Il sindaco Livetti dice abbiamo già provveduto a predisporre l'ordinanza. Anche qui il tema della piscina sul Corriere, un anno e mezzo out, la piscina può riaprire ieri il sopralluogo alle saline, via libera ad ottobre, lunedì ultimo, step accensione dell'impianto termico. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Passate una buona giornata, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. A presto. Per è più di più di più di più di più. Grazie a tutti.